Ma questo discorsetto agghiacciante, se avete visto il film della Guzzanti avete visto anche le facce di quelli che stanno vicino a Violante mentre lui fa outing, c'è Fassino che si passa una mano sulla destra come dire pure questa doveva tirare fuori e c'è Visco che come una cinetta impagliata dietro lo guarda con gli occhi a biglia e gli escono dalle orbite. L'onore Berlusconi sa per certo che è stata data la garanzia piena non adesso nel 1994 che non sarebbero stati toccati le televisioni quando ci puoi cambiare il governo e lo sa, lo sa lui e lo sa l'onore Letta e lo sa l'onore Letta. Comunque a parte questo la questione è qui un'altra, voi ci avete accusato di regime nonostante, ripeto, non avessimo fatto il conflitto di interessi, avessimo dichiarato elegibile Berlusconi nonostante le concessioni, non avessimo aumentato durante il centro-sinistra il fatturato di media sete, aumentato di 25 volte. Ma in nome di quale mandato elettorale sono state prese queste decisioni? E nell'interesse di chi?